Appena Davide mi ha detto di questa occasione, ho potuto presenziare perché veramente, secondo me, per il proprio genere nella vita vuol dire che non esistono limiti, nel senso che quando vedo questi tipo di situazioni dove oltre le difficoltà si va avanti è veramente una fonte di spiegazione grandissima. No, io anche sto d'accordo, anche perché fanno un certo effetto, io poi ho in famiglia anche due ragazzi di Sampoli, quindi vedere determinate cose mi rende veramente felice, insomma, e vorrei trasmettere anche a loro che sono un po' magari con una maniera un po' più avanzata e farli fare qualche sport, insomma, vedere una partita del genere, ho detto Marco, vuol dire che veramente non esistono limiti, quindi ci ho capito. I limiti non esistono, il calcio in pratica unisce tutti, qui il pubblico presente tra i giocatori che comunque non giocano ma sono stati invitati perché fanno parte di altre associazioni, i parenti, i amici, insomma, sono tutti coinvolti, tutti prendono le parti, tutti si stanno divertendo. Lei che cosa invece si augura? Io mi auguro che l'esempio che danno anche ai nostri calciatori presenziare a queste iniziative straordinarie sia da stimolo anche per altre realtà sportive della provincia di Messina. Io nella qualità di responsabile, ho fatto la battuta prima, io non sono un calciatore, si vede, mi occupo della comunicazione e anche di questi incontri, devo dire, quando ho proposto ai nostri Marco, Marco Manetta e Marco Rosaccio di venire qui a Forza d'Agro per vedere una partita di non vedenti, sembra una contraddizione in termini ma è proprio così, vedere una partita di non vedenti e per loro è stata una cosa, come dire, la risposta è stata subito sì, certo, ci siamo, anche perché abbiamo curiosità pure di vedere come si gioca a calcio ci stracciano, ci stanno stracciando il calcio grazie a tutti